Una buona notizia è quella che mi appresto a darvi in questo video di oggi, che vede protagonisti, i docenti, chi sono i docenti? Sono ovviamente i professori e le professoresse. Infatti vi ricordo che è in vista, in previsione, un aumento di stipendio che ci sarà per tutti i docenti del nostro paese d'Italia. In particolare si legge che ci dovrebbero essere 160 euro in più al mese, 160 euro in più ogni mese. Una scelta importante, forse oculata, che il diputato del ministro ha deciso di compiere anche sulla base del fatto che le classi ormai sono diventate classi di pollaio e c'è un tetto di stranieri e ormai essere docenti, fare il professore o professoressa o comunque insegnante, è un lavoro snervante che mette a dura prova la pazienza di chi lo va a realizzare, di chi lo va a compiere. Va bene? Insomma, per farvela breve, 160 euro in più al mese in stipendio della busta paga di ogni docente, di ogni professore o professoressa. Grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi e commentate, chissà come la prenderanno i professori e le professoresse.